Si è fermato a un passo dalla proclamazione il sogno di Monte Sant'Angelo di diventare capitale italiana della cultura del 2025. Ad aggiudicarsi il titolo durante una cerimonia preseduta dal ministro della cultura Gennaro San Giuliano è stata infatti agrigento. Monte Sant'Angelo 2025 è un monte in cammino. Questo è il titolo del dossier presentato dal borgo del Foggiano in cui si trovano ben due siti UNESCO, la foresta Umbra e il santuario di San Michele Arcangelo. Un percorso partito da lontano che si è fatto portavoce di tutto il Gargano, iniziato il 31 maggio con la presentazione della candidatura. Il progetto è stato affidato alla fondazione Lynx con l'assistenza scientifica di Alessandro Bollo, che aveva già lavorato al dossier di Matera 2019. È stata un'esperienza incredibile, una competizione generativa e ricca di stimoli. Monte Sant'Angelo e Gargano sono cresciuti molto con questa candidatura. Abbiamo creato una nuova architettura delle relazioni e ora lavoreremo per consolidarla. Questo è il commento a caldo sui social del sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo D'Arienzo, volato a Roma per assistere in presenza alla cerimonia. A contendersi il titolo per il 2025, insieme ad Agrigento e a Monte Sant'Angelo, c'erano a Osta, Sisi, Bagno Reggio, Orvieto, Pescina, Roccasecca e Spoleto.